www.sparwinkel.it Ho anche... Anche in crucio pure... Questo! Questo! Però deve essere... Per me è da Sparwinkel. Falo! Volevo vedertelo fare. Allora, dobbiamo fare questo adesso. Vieni Bertocco. Facendo questo, lui mi tira in sinistro. Questo. Ok? Io non sto lì a fare... In questo caso qui, io non vado diretto per prendermi... Perché vado in questo modo qui se voglio tirarlo diretto. Ma la mia posizione è sempre questa. Si dice, ma stai perdendo l'equilibrio perché ti trovi facendo il passo. Poi... Ma questo quindi serve per girare il colpo. Poi... Pum! Questo. Ci puoi mandarlo uomo. Se lavoriamo anche con il destro... Pum! Questo! Uguale. Sempre questione non di rimanere fermo lì. Perché sennò vado su questa posizione. E su questo. Pum! Pum! Io sono bene piantato. Sono qua. Questo. Io sono già fuori misura dall'uomo. Già facendo questo, sono già fuori misura. Pum! Questo. È questo. E sono già fuori misura. In questo quando io gli sento il colpo, io sono già... Lui adesso qui da me non mi può fare più niente. Pum! Perché se lui si gira... Prova a girarti. Mi giro anch'io e poi... Pum! E rientro. Se ha voglia di fregarmi. Però, in questo caso qui, mettiamo il destro. Pum! Questo e poi... Pum! Pum! E poi... Pum! E vado via. Ok? Proviamo a fare questo. Il rallentatore... Io l'ho fatto così perché mi viene spontaneo a partire, no? Allora... Sì! Perché è quella voglia, no? Per esempio, il sinistra... Io... Tu no! Sì! Pum! Questo. Io sono già piantato. Però qua, adesso... Pum! Pum! Guarda! Qui posso... Posso fare tutto quello che vuoi. Ok? Sì! Io l'allentatore piano piano... E quello che sta davanti... Pum! Pum! Deve viene... Deve viene... L'incrocio. Andiamo! Sicuri, eh? Oppure... Scusami, il resto... C'eravamo da... Oh! Io vi l'ho messo in banca con la gamba! Io vi l'ho messo in banca con la gamba! Perché si fa il lavoro coordinato? Perché poi porta all'incrocio del colpo! Però da fermo! Da fermo! Da fermo! Io sono qui! Sì! Tu! Guarda! Già! Già! Già sono qui! Via! Tu! E poi posso partire da sotto! Sono qui! Destro! Questo me lo gioco! Io sono lì! Destro mia! Tu! E parto! Posso anche gestirmi come ho potuto io la cosa! Invitarlo! Ok? O sinistro o destra! Però mettete lì! Tu! Tu! Ecco! Questo è il lavoro dell'incrocio! Ogni volta che mi mettono in diretto! Andiamo! Quello! Quello! Dopo quello viene! E... Non ti abbassare! Non ti devi abbassare! Non ti devi abbassare! Quello! 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 Ragazzi! Questo! Quando siete sicuri di fare le cose! E che il vostro avversario arriva lì col sinistro e tenete in avanti! Contesto! Questo! E' la cosa più bella! in futuro! Dio! E' la cosa più bella! E' la cosa più bella! Ogni volta che mi mettono i istostenibili dal centro! E' la cosa più bella! Questa è la cosa più buona rinuncata! Che che ricordate le cose con attra la rinuncata! Allora, non ti faccio! Grazie. Grazie. Grazie.